Le selezioni di Miss Mondo per Abruzzo e Marche approdano a Silvia, al Centro Commerciale Universo, un appuntamento importante e tutto da seguire. Quali sono le novità? Stiamo cercando di rilanciare un po' tutta l'immagine dell'Abruzzo attraverso il mondo della bellezza femminile. Approdiamo qui al Centro Universo per dedicare una puntata espressamente all'addestramento delle ragazze su quello che riguarda l'edizione, quindi tra l'italiano e l'inglese, che è fondamentale per una missa che si proietta nel mondo internazionale, e tutto quello che riguarda il portamento. Il primo marzo ci sarà dunque questo appuntamento e vedremo in passerella tutte le bellezze delle nostre due regioni, Abruzzo e Marche. Sì, gireremo qui questa puntata dedicata al portamento. Chi vuole venire a vedere è ben invitato, ci saranno delle sedie per potervi ospitare e vedrete come si prepara una ragazza a poter arrivare a fare l'indossatrice o la fotomodella, che sono due segmenti diversi per quanto riguarda la fisicità di una bellezza femminile. Quindi c'è proprio un... ecco, qui all'universo abbiamo degli spazi abbastanza ampi, ci sono poi... sarà dedicata anche qui un'altra puntata al fitness, perché abbiamo delle bellissime piscine. Quindi una... c'è da divertirsi e voi dovete seguirci, perché poi la cosa bella della comunicazione è che bisogna rilanciare anche questo rapporto fra chi organizza degli eventi del genere e i media, che è importante, proprio per far conoscere anche agli sponsor che cosa si fa sul territorio.